Nuovi arredi e gazebo per proteggere i mezzi in sosta. Vengono migliorate infatti le postazioni del 118 della provincia di Caltanissetta, delle modifiche dal punto di vista strutturale non solo per incrementarne la funzionalità e rendere le 15 postazioni disponibili nel territorio nisseno più confortevoli per i pazienti e adatte ai bisogni del personale. Un'azione che rientra in un progetto iniziato dall'ASPE nissena negli ultimi mesi. Più della metà dei gazebo sono già stati installati, nove per l'esattezza. In quest'ultimo anno, sottolinea il direttore generale dell'ASPE di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, sebbene impegnati per tutte le attività legate agli eventi pandemici, abbiamo attuato un piano di monitoraggio e di miglioramento di tutte le postazioni 118 e abbiamo reso le stesse linee alle normative conformi alle necessità dei lavoratori. Il 118 di Caltanissetta, racconta il direttore della centrale operativa del 118 Giuseppe Misuraca, è stato anche il primo in Sicilia per la presenza dei tunnel di sanificazione installati per la pandemia. Sono le strutture dove accedono i mezzi dopo aver soccorso un caso di Covid o sospetto Covid. Al loro interno, aggiunge, il personale si sanifica prima di procedere alla svestizione, abbattendo l'eventuale carica virale. Infine, a giorni, inizieremo i lavori di rifacimento dei locali di sost del personale dell'elisoccorso nella sede del Sant'Elia. Si tratta di strutture di moderna concezione, conclude, che sostituiscono quelle vetuste che necessitavano di essere sostituite. Novità queste che si aggiungono a quelle già annunciate nei giorni scorsi della Regione, che comunicava la fase finale del completamento del piano di digitalizzazione del Servizio di Urgenza e Emergenza Sanitaria 118 in Sicilia, puntando ad una velocizzazione dei tempi di intervento e soccorso sul territorio e snellimento delle procedure di gestione del paziente. Circa l'85% delle equipe multiprofessionali in servizio sulle 251 ambulanze e sui 6 elicotteri del 118, si leggeva nel comunicato, sono già state dotate dei tablet che consentono la geolocalizzazione dei mezzi, la dematerializzazione della documentazione di borde sanitaria, la visualizzazione dei posti e dell'affollamento delle aree di emergenza negli ospedali, il sistema di interscambio di dati in tempo reale fra tutti gli attori del sistema di emergenza. E mentre si sta svolgendo la formazione per preparare il personale sull'utilizzo dei nuovi dispositivi, si prevede il completamento della distribuzione entro settembre e la piena operatività della rete territoriale del progetto regionale 118 volte digitale entro fine anno. Verranno consegnati infatti in totale 300 tablet destinati a tutte le equipe in servizio sui mezzi del 118 collegati alle quattro centrali operative della Regione siciliana, e cioè Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina, con tanto di software e piattaforme digitali per le diverse funzioni, come ad esempio la gestione delle risorse umane o ancora per poter visionare la disponibilità dei posti letto nelle strutture ospedaliere. La digitalizzazione del 118 rappresenta un atteso traguardo per tutto il sistema sanitario regionale che permette di operare secondo standard professionali organizzativi elevati, precisa l'assessore regionale della salute, Ruggero Razza, riducendo al massimo i tempi di attesa di chi necessita dell'intervento dell'ambulanza e favorendo un migliore coordinamento nella presa in carico e nella cura del paziente.